Pericolo, palla persa, indietro verso il compagno, super parata qui Grande recupero, chiamato in causa bene qui il portiere, sarà di nuovo calcio in angolo C'è il tocco arretrato, decisivo l'intervento del portiere che nega il vantaggio agli avversari Una parata che potrebbe avere un peso specifico Non corre rischi, sceglie i pugni, palla che spiove Calcio in angolo intercettato facilmente dal portiere Risultato di parità, ma attenzione a questo calcio D'applausi l'intervento del portiere E il pallone finisce in rete, pazzesco hanno trovato il vantaggio a poco dal novantesimo Gara che non finisce di stupirci Non ci credo, Pierre hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria Quando nessuno ormai ci credeva più Lo salta Hanno il pallone che può valere la parità Attenzione, prezzievole l'intervento del portiere Bianchi, ottimo intervento del portiere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti